Per campioni ciena abbiamo Marta Bassino, la prima domanda che ti facciamo è ovvia, ti aspettavi un inizio di stagione così positivo? Così tanto sinceramente no, cioè mi aspettavo, io puntavo in alto chiaro, puntavo a fare bene, però subito il podio no, non me l'aspettavo. Questo ti dà un po' più di stimoli magari per affrontare la stagione? Sicuramente, questo comunque mi dà tantissima fiducia anche per guardare avanti, so che la stagione è appena iniziata, quindi io parto da qui per continuare. È chiaro che sì, dà proprio tanta fiducia, so che ce la posso fare, che sono lì tra le prime. Sei un po' buonissima, sei una delle grandi speranze dell'uscita, gli hanno sentito che stanno arrivando a che i risultati potrino aumentare, magari anche le responsabilità. Ma la responsabilità, sì, forse tipo come pressione, intendi, chiaro che poi dopo un podio tutti un po' ti suono addosso, tutti delle interviste che vogliono sapere, che si aspettano sempre più da te. Io un po' cerco di fare come ho sempre fatto, di sciare come so fare e basta. Qual è il tuo obiettivo stagionale? Ma adesso, cioè, partire diciamo dal podio e girarci sempre lì attorno. E l'ultima cosa, cosa dice ai tifosi, ai tuoi tifosi curiosi? Li ringrazio perché so che Cuneo mi segue tanto, sempre, anche tutti quelli di Porgo San Dalmazzo, e li saluto. Grazie. Grazie mille. Grazie.